E qui lui comincia a elaborare la sua nozione di dionisiaco. Da notare che nella stessa Basilea Albert Hoffman nel 1943 elabora l'SD, quindi si vede che questa nozione di dionisiaco è mutevole, si sposteva avanti. C'è sempre questo annesso con la chimica, del resto Nietzsche quando era rapallo si autoprescriveva dei farmaci perché gli era rimasta la carta intestata di Basilea. Questi vedevano professor, doctor, pensavano che fosse medico e lui si faceva degli intrugli delle cose. Vabbè, comunque, e qui siamo al non prendetemi per un altro. 1872, la nascita della tragedia, a un certo punto, qui c'è meno da ridere, ma siamo quasi alla fine, c'è Nietzsche che dice, sì amici miei, cedete con me alla vita dionisiaca, che è effettivamente un'esperienza, è esattamente l'esperienza dell'LSD. Il tempo dell'uomo socratico è finito, l'uomo socratico sarebbe il dotto che pensa che il sapere sia virtù e la virtù sapere. Inghirlandatevi di edera, prendete in mano il tirso e non vi meravigliate che la tigre e la pantera si accovaccino carezzevolmente ai vostri ginocchi, che è un'esperienza risergica. Ora, osate essere uomini tragici, già che sarete liberati. Accompagnerete il corteo dionisiaco dall'India alla Grecia, armatevi a dura lotta, ma credete in miracoli del vostro Dio. Qui effettivamente aveva fatto questo stile un po' gonfio e goffo, aveva anche, come dire, dato man libera a Wilhelmowitz-Möllerdorf, più giovane di lui di quattro anni, di dire, sì, adesso il professor è arrabbiatissimo del fatto che lui fosse andato in casa, era così giovane, gelosissimo. Aveva detto, vai, insomma, il professor Nietzsche prenda pure il tirso, la mitra, tutto quel che vuole, ma la pianti di insegnare, perché vi prendereste a casa uno che dice, osate essere uomini tragici, già che sarete liberati. Dopodiché, questo è, come dire, libertà di insegnamento, ma qui c'è un punto che fa pensare. C'è questo libro, peraltro probissimo, degnissimo, di introduzione alla nascita della tragedia, di un certo Wibrecht Ries, che dice, segue, da questo passo, una considerazione che oggi appare piuttosto problematica. Nietzsche parla di una guida, Führer, carismatica, e l'amara comicità, notate, comicità, della storia, che pochi decenni dopo la morte di Nietzsche, il tedesco si sia affidato a una guida, un Führer, che invece di restituire al popolo tedesco la perduta patria mitica, lo fece precipitare nella catastrofe, per inciso. Restituire al popolo tedesco l'antica patria mitica era fare la fine dei Nibelunghi, quindi sostanzialmente precipitare nella catastrofe. Ma al di là di questo, non è un'amara ironia, è proprio questo, perché ovviamente l'orrore, e non solo, vabbè, questo è il quadro di Raffaello, la trasfigurazione in cui lui vedeva il Dionisiaco, in cui Nietzsche vedeva il Dionisiaco e l'Apollino, nel senso che diceva che sotto è il Dionisiaco, e che sopra c'è l'immagine trasfigurata dall'Apollino. Ovviamente uno potrebbe dire che il Dionisiaco sono cose come Woodstock e cose di questo genere, ma ovviamente anche le parate di Nuremberg sono il Dionisiaco. Cioè non è che puoi fermarti a dire no, lui non c'entrava con questo, non l'ha fatto, non l'ha detto. Non poteva saperlo, in nessun modo ha favorito questo mondo, però questo mondo lo riguardava da vicino. E questo ci porta a quello che, alla parte diciamo così più, non so se tragicomico, comunque finale. Allora, Berlino non è stata una delle città preferite da Nietzsche. Nietzsche, fra l'altro, non è stato quasi mai in capitali. aveva progettato di andare a Vienna con Re e Lu per andare a studiare tutti quanti e tre insieme medicina. Però, come sappiamo, le cose sono andate altrimenti. Poi è stato a Roma un paio di volte, a Parigi non c'è mai stato, a Berlino è stato tre volte. Una volta per delle questioni militari, cioè di servizio militare, un'altra volta per trovare un suo amico, e la terza volta per trovare Lu che non si è fatta trovare. Comunque, il punto è che Berlino è anche, come dire, il luogo di certe catastrofi tremende che hanno caratterizzato la nostra storia. E ci sono dei passi di ecceomo che sembrano profetizzare la cosa. A un certo punto lui dice, conosco la mia sorte. Un giorno sarà legata al mio nome il ricordo di qualcosa di enorme, una crisi quale mai si era vista sulla Terra, la più profonda collisione della coscienza, una decisione evocata contro tutto ciò che finora è stato creduto, preteso, consacrato. Io non sono un uomo, sono dinamite. Era un commento che era piaciuto tanto a Nietzsche, perché era la recensione di un giornalista svizzero, ad alti là del bene e del male, dice, questo qua è dinamite, gli piaceva tanto. Non sono un uomo, sono dinamite. Ora, per esempio, proprio il summentovato Derrida ha detto una cosa molto giusta, e lo diceva in un periodo non facile, perché le letture prevalenti di Nietzsche all'epoca era che Nietzsche fosse uno di sinistra, qualunque cosa questo potesse significare. Lui ha detto, ovviamente non possiamo imputare a Nietzsche l'uso nazista dei suoi testi. Fra l'altro, per inciso, la sorella non ha falsificato niente. È falso che la sorella abbia messo delle cose naziste dentro i testi di Nietzsche. La sorella ha falsificato l'epistolario spesso per far credere che era una interlocutrice privilegiata di Nietzsche, che non era il caso. Nietzsche la considerava una deficiente e aveva anche ragione. Però, lei, proprio perché era una deficiente, non ha falsificato in senso nazista i testi, anche perché quando lei avrebbe potuto falsificare i testi, il nazismo non c'era. La volontà di potenza esce nel 1901, quindi quando Hitler ha 12 anni, che sarà stato cattivo, ma non così cattivo da avvalersi immediatamente di queste cose. Ma, però, quello che dobbiamo chiederci è perché questo, quando c'è Nietzsche che dice dovranno essere fatte delle istituzioni che permettono di vivere e di sentire come io intendo vivere e sentire, dice Derrida, perché l'unico luogo in cui questo progetto è stato attuato è stata la Germania dal 1933 al 1945. Non può essere considerato accidentale. Per esempio, non può essere considerato accidentale che, se voi andate a guardare la lista delle università tedesche dal 1933 al 1945, tutte hanno insegnato corsi su Nietzsche, che non è normale pensare. È ovvio che c'era una consonante. Quindi, ovviamente uno dice, non prendetemi per un altro. Allora, il problema, uno potrebbe dire, certo, Nietzsche è molto diverso da Hitler, però è legato da un certo numero di fili, che sono fili caratteriali, attenzione, non ideologici, caratteriali con Nietzsche. Per esempio, un filo della comicità, cioè uno e l'altro fanno ridere involontariamente. C'è Thomas Mann che ha scritto un articolo nel 1933 intitolato Fratello Hitler, che è bellissimo, perché dice C'è tutto in Hitler, in un certo modo mortificante, la difficoltà, la pigrizia, non ero un essere umano, la pigrizia, la pietosa incertezza dell'infanzia, il non essere mai a posto, il ma che cosa vuoi insomma, il vegetare semi imbecille nella più profonda bohemia sociale e spirituale, il rifiuto in fondo alteri, in fondo presuntuoso di ogni attività onorata e ragionevole, in base a che? In base al nebuloso presagio di essere preservato a qualcosa di molto vago che se fosse chiamato per nome e se chiamabile fosse farebbe scoppiare da ridere la gente. È chiaro che qui è piuttosto la descrizione di Hitler. Però al di là della bohemia semi imbecille, il vegetare semi imbecille, ci sono le difficoltà dell'infanzia e c'è questa cosa qua, c'è questa consapevolezza del fatto che molto spesso molte affermazioni di quelle che vengono fatte da Nietzsche, se fossero enunciate apertamente, farebbero scoppiare da ridere la gente, così come fa scoppiare da ridere la gente. Questo è il grande comico del Terzo Reich, per quanto può essere comico, è Goering, è da notare che questo è un passo molto bello perché c'è un... in fondo sono tutti i nomi della storia, è un passo che non c'entra niente con la nostra dimostrazione, ma è una specie di Goering-Zelig, molto carino. Descrive una riunione nel bunker nel fine aprile 1945. Goering aveva sempre attribuito grande importanza all'aspetto esteriore delle cose, orbene negli ultimi giorni la sua uniforme aveva subito una notevole trasformazione. Potevano non constatare con stupore che aveva sostituito la stoffa grigio perla con il cacchi della divisa americana. Non portava più spalline larghe 5 centimetri intrecciate d'oro, ma semplici spalline di stoffa sulle quali spiccava solitaria l'insegno del suo grado, l'aquila d'oro dei marsali del Reich. Sembra proprio un generale americano, mormorò uno degli astanti, ma Hitler non notò neanche questo. Comunque piccolo passaggio di questo istrionismo. Allora, veniamo al dunque. Che cosa hanno in comune? Questa è la fotografia della sciagurata visita che Hitler nel novembre del 1933, dopo essere stato nominato cancelliere, ha fatto a Weimar all'archivio Nietzsche, dove c'era la sorella che ha dato un bastone da passeggio di Nietzsche a Hitler, insomma è come se avesse segnato il sodalizio fra i due questo e Hitler e quello lì. questo ha suscitato giusto sdegno anche se, per esempio, dell'uscita non felicissima, perché Georges Bataille, questo saggista francese, ha commentato, ha deprecato questo punto e ha detto e così Madame Elisabeth Judas Forster, come dire Elisabeth Giuda Forster, come per dare la caratterizzazione peggiore che venisse in mente per caratterizzare Elisabeth Forster, era chiamarla Giuda, che date gli ideali di Nietzsche sembrava anche di Hitler, scusatemi. Comunque, Nietzsche impazzisce nell'89, Hitler nasce nell'89, quindi a meno di ipotizzare una trasmigrazione delle anime, ma notoriamente Nietzsche è un bravo scrittore e Hitler invece no. Nietzsche è elitista e filosemita, Hitler populista e antisemita. Nietzsche ha scritto Hitler ha governato, comunque i testi non sono stati falsificati, giusto perché si sape. Quindi non ci può essere una maggiore differenza fra questi, però sicuramente c'è un punto che li unisce entrambi ed è il gusto per la catastrofe. Qui c'è un passo molto bello e significativo che ha scritto Nietzsche a un certo punto. Agli uomini che in qualche modo mi importano, auguro sofferenza, abbandono, malattia, maltrattamento, periodi di dignità. È abbastanza impressionante questo, questa specie di gusto del naufragio, del resto è quello che accade a lui. È sempre Overbeck che scrive L'impressione più penetrante di distruzione e di agnientamento che la vita mi ha più procurato e mai mi procurerà. Ora, è come se Nietzsche, esattamente come Hitler, resistenzialmente, non teoreticamente, avesse puntato tutto su una carta e avesse perso. Avesse giocato fino in fondo questa catastrofe. In fondo la decisione di Nietzsche di restarsene a Torino, a dire di essere Alessandro Magno, e la decisione di Hitler di restarsene a Berlino, fanno parte dello stesso gusto della catastrofe, dello stesso gusto dell'orrido, che per esempio, è quello famoso, è stato commentato da tanti, il discorso al Palazzo dello Sport di Berlino, subito dopo Stalingrado, fatto da Goebbels, che per inciso va studiato i romantici a Bonn, e dice, vi chiedo, volete la guerra totale? Se necessario, volete una guerra più totale e radicale di quanto mai oggi possiamo immaginare? La cosa abbastanza incresciosa è che tutti hanno detto, sì, sì, la vogliamo, la vogliamo, eccetera. E lo stesso tipo di iperbole autodistruttiva, quando Nietzsche dice che l'ameba si divide in due per volontà di potenza, quindi sceglie la propria autodistruzione per accrescere la propria potenza, rientra in quella stessa logica. Quindi tutte quelle catastrofi che hanno segnato il finale, questo è il Bruckner che hanno dato il primo omaggio, bellissimo, e Hitler era un intenditore di musica per annunciare la morte di Hitler.